Molto bene, che cosa aspettiamo? In marcia, forza! Che cosa c'è? Prima partiamo e prima arriviamo. Non è necessario che mi accompagnate ancora. Che sciocchino, non vorrei che ti lasciamo andare da solo? Ora siamo amici, quindi veniamo anche noi con te. Dite sul serio. Prima. Mai stati più seri? Asso, ti ricordi che cosa hai fatto sulla torre? Mi hai mostrato che cosa significa avere un cuore coraggioso. So che posso diventare più forte e lo possiamo diventare entrambi se viaggiamo con te. Possiamo imparare molto, Lem. Sempre che tu voglia, ovvio. Certo che sì, sarà bellissimo. Ci si diverte molto di più insieme agli amici. E allora, qua la mano. Al nostro viaggio insieme. Oh sì, al nostro viaggio insieme. Non è giusto, io non ci arrivo. Pronti a incontrare tantissimi nuovi Pokémon? Esatto. E lo faremo insieme da veri amici. Kalos, stiamo arrivando! Sì! 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 Sì!